Ciao a tutti, ciao Emy! Ciao, di Edi mi avevi fatto i tretti di cavallo e adesso ho detto le prime e sono diventati boccolosi. Guardate, abbiamo fatto la treccina all'unicorno, l'unicorno è un cavallo da principesse. Sono rimaste le onde! Le abbiamo fatto dei... Adesso facciamo le ultime, vediamo come sono venute. Aspettate, ecco. Wow! E anche l'assumatura verde e acqua. Bello! Noi abbiamo finito di fare i compiti, ok? Che bello! Ciao a tutti!